REV 90, categoria All Monte, ma uno sci dedicato prevalentemente alla neve fresca ma anche per un 70% e per un 30% alla pista battuta. Questo sci, come tutta la serie REV, è caratterizzato dalla nuova tecnologia ERA 3.0, caratterizzata da un levissimo rocker in spatola che permette un ottimo galleggiamento sulle nevi fresche ma anche una facilità di inversione di spigolo sulle nevi battute. Inoltre il raggio che permette di avere sempre il 100% di lamina sulla neve in tutte le condizioni ha una spatola leggermente allargata, quindi un raggio progressivo e una spatola rinforzata grazie alle fibre intelligence che ne permettono un'antivibrazione durante la discesa ma anche un'ottima stabilità durante la curva.